Dai grandi ospiti agli eventi fino ai grandi simboli. Questa sarà la biosfera che il 24 febbraio sarà inaugurata in Piazza del Popolo. Una piazza che da qualche giorno si sta presentando transennata nella sua porzione compresa fra la Fontana e il Palazzo delle Poste per i lavori in corso che stanno allestendo quello che sarà l'elemento iconico di Pesaro Capitale della Cultura come installazione permanente per l'intero 2024. Una sfera interattiva con tecnologia informatica all'avanguardia e proiezioni video e audio fornite da 2 milioni di led. Il tutto in dimensioni di 4 metri di diametro e 5 metri d'altezza che verranno appoggiati su un basamento di 6 metri. Per il 24 febbraio il Comune pensa già ad un'altra grande festa cittadina dopo quella di un mese fa alla presenza del presidente Mattarella. Inaugureremo la biosfera della vita, una sfera digitale di 5 metri d'altezza che rappresenterà il pianeta da salvare e al tempo stesso produrrà ogni giorno spettacoli audio luce. E dunque un altro elemento iconico della piazza di rimpettaio al maxi palco a conchiglia che a sua volta sarà permanente per l'intero 2024. Curiosità dai passanti in piazza che vedono prendere forma un'installazione inusuale che sarà uno strumento interattivo e produttivo di contenuti quotidiani legati alla promozione del territorio e al tema la natura della cultura.